In tempi antichi, il mondo era pieno di meraviglia e di magia. Ma i tempi cambiano. Sono un guerriero! Buongiorno, mamma! Ehi, buon compleanno! Per l'antico rituale, quest'oggi un uomo sei diventato! Chinati dinanzi a me! Anche no! Ho un regalo da darvi da vostro padre. Mi disse di darvelo il giorno in cui entrambi avresti avuto 16 anni. No! Dai! È un bastone magico! Papà era uno stregone! Cosa? Vostro padre era un contabile. Questo incantesimo lo riporterà qui per un giorno intero. Riavremo papà! Cosa? Vuoi dire vivo e vegeto? Non è possibile! Sì che lo è, con questo! Sto per conoscere papà. Oh, i piedi! Non riesco più a tenerlo! È tutto a gambe! Sono sicurissimo che avessi anche la parte sopra! Oh, che ho fatto! Ciao! Abbiamo solo 24 ore! Per riportare qui anche il resto! Nel frattempo... Eccezionale! Papà, sei identico a come ti ricordavo! Problemi? Occhialone? Ora! Se cerchi avventure... Sei nella taverna giusta? Oh, no! Mi sa che siamo rimasti a secco! Lì segna serbatoio pieno! No, quello è guasto! In gigantesimo! In gigantiamo la tanica! Il carburante all'interno aumenterà a sua volta! Alza i gomiti! Provo a concentrarmi! Concentrati! Concentrati! Barney! Alla stessa! Ce l'hai fatta! La tanica è enorme! E il furgone è enorme! E anche tu! Oh, no!